ciao a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato ai football 2023 inizia la season 2 ebbene sì perché anche se è in corso un anniversario o pseudo anniversario o evento mondiale su captain su base dream team questo non mi vieta di fare video anche sui football qualora questo sia meritevole e a sto giro pare che sia effettivamente meritevole perché anche football pur non avendo le licenze del caso ha ben deciso di fare il suo evento dedicato al mondiale ho dovuto purtroppo spegnere l'audio per motivi di copyright sia mai che mi buttino giù il video il canale e quant'altro fatto sta che ci sono veramente un botto di novità nell'aggiornamento che è uscito quest'oggi ci sono stati tre giorni di manutenzione dei server ma pare che ne sia valsa la pena qualche assaggio alle modifiche del gameplay lo abbiamo avuto anche in questi giorni perché comunque in alcune modalità offline si poteva comunque giocare si potevano scegliere appunto le squadre le squadre nazionali altre le testeremo meglio quando andremo a giocare qualche partita un po più seria nel nel pvp perché sto registrando questo video in questo momento perché con tutta la roba che hanno messo detto proprio francamente se andassi a fare tutto nella a vedere tutto nella live di questa sera perché poi comunque questa sera la mia idea sarebbe anche quella di fare una live orario prossimativo 20 e 30 potrei iniziare magari 15 minuti prima o 15 minuti dopo questo rimane un punto interrogativo però rimanete come come orario circa le otto e mezza di di sera dicevo se dovessi vedere tutto quanto stasera in live dovrei fare tipo una live di sei sei ore questa sera mi piacerebbe concentrarmi un po di più sul sul gameplay sulle modifiche che sono state fatte al gameplay visto che pare che abbiano cambiato almeno per chi le ha provate perché in realtà in questi giorni non ho ancora avuto modo di provare il gioco chi le ha provate mi ha detto che effettivamente si sentono si sentono si sentono tanto sia a livello proprio tecnico tiri passaggi e quant'altro sia soprattutto a livello di movimento dei 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 giocatori posizionamento in campo hanno sistemato anche alcuni moduli che non funzionavano alcuni moduli sembra il vie laterali uno in realtà che non funzionava propriamente bene per quello che riguardava i terzini o comunque i giocatori che giocavano che giocavano sulle fasce purtroppo la una delle modifiche principali che io avrei apportato ovvero il numero di giocatori presenti in panchina non mi risulta sia stato modificato è ancora un po contenuto forse troppo contenuto rispetto a quanto non non dovrebbe essere rispetto soprattutto alla alla realtà e comunque di quello ce ne faremo una ragione è un po pesante perché è brutto non potersi portare dietro abbastanza giocatori per coprire tutte le posizioni del campo necessarie anche in panchina io più delle volte devo sacrificare il portiere che uno dice va bene ma sui football quando mai lo sostituisci il portiere no ragazzi non è vero perché se prima della partita vedo che il portiere non è in uno stato di forma ottimale la logica direbbe appunto di cambiarlo prima che inizi che inizi il match e questo vale praticamente un po per 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 tutti i giocatori naturalmente adesso invece nel video ci concentreremo più che altro sull'esame dei nuovi eventi che sono appunto dedicati dedicati al mondiale si tratta di di eventi pwe di eventi pvp e poi di tutti 12 mila milioni di 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 banner che hanno che hanno inserito ok bonus d'accesso è il medesimo bonus d'accesso speciale ammazza bonus d'accesso speciale 5 6 7 8 9 10 11 12 130 mila gp e 50 e 50 monete ha però in una in una settimana nuovo oggetto della posta france un pull su banner della francia un pull sul banner della spagna 2010 quindi spagna leggendaria 300 monete e football scusa dell'amministratore ok trasferimento completato va bene grazie mille usti non so nemmeno primi passi ti diamo il benvenuto sui football war possiamo aiutarti a migliorare il gioco inizia subito il tuo viaggio da qui missioni debutto fa vedere come sono queste benedette missioni debutto fa un po ridere considerando che ormai si gioca da diversi mesi missioni debutto che scopriamo cosa più possiamo aspettarci del football 2023 completa le missioni debutto 1 per sbloccare le missioni debutto 2 quindi sono anche missioni a step questi ticket sono una novità di questa versione ci permettono di pullare dei giocatori randomici nella loro forma base quindi quelli che avremmo preso con le monete tradizionali 4 stelle 3 stelle poi allenamenti usa un ticket usa la funzione scelta automatica in uno schema di gioco vabbè tutte abbastanza facili da completare per quale arcana ragione non lo so ne ho già completate 3 su 7 credo che siano retroattive il benvenuto crea id utente col peta gli obiettivi 1 delle missioni debutto ok perfetto le missioni 2 credo che non si possono vedere probabilmente si potranno vedere solo una volta esatto solo una volta completate le missioni 1 pass partita la grande novità pass partita ti operano ti offrono ricompense per le partite giocate usando le monete football puoi sbloccare pass partita speciali che offrono premi aggiuntivi e allora fino all'anteprima si vedeva appunto fino allo step numero 5 adesso si riesce andare avanti e scopriamo che in tutto sono orco buona quanta roba la malora 100 100 100 100 mamma mia macello allora nell'extra come giocatore a disposizione ci danno gareth bale si può vedere come è gareth bale si che ci fanno vedere come eh ma fammelo vedere come è gareth bale però non essere così cattivo 32 livelli di crescita tutto eh 90 come competenze stile di gioco buona esterno sinistro esterno destro sia d'attacco che centrocampo e punta come abilità ala plur ala prolif vabbè ok un'ala che segna tanto così evito di impappinarmi da solo mentre invece il premium che dovrebbe essere quello che costa di più ci dà a Tadic io preferivo bay la Tadic sinceramente 25 livelli di crescita quindi anche meno parte da un overhaul di 82 regista creativo vabbè va detto che questo qua da metà campo in su fa praticamente qualunque cosa punta seconda punta trequartista esterno destro esterno sinistro a centrocampo in attacco va bene da metà campo in su va veramente ogni cosa e ribadisco che preferivo oggettivamente preferivo bale bale parte da un 93 ah no parte da 80 con 32 livelli di crescita ah come overhaul arrivano uguale ci fanno già vedere che come overhaul arrivano tutti e due a 93 poi i contratti a tre stelle sono medesimi per tutte le tre versioni al giorno 10 almeno credo che sia un giorno comunque arrivati allo step numero 10 il normale e l'extra hanno un contratto a quattro stelle mentre invece il premium ha un contratto a tre stelle strana questa cosa oggettivamente 5 stelle normale extra allo step 15 3 stelle al premium perché poi qua però mi parte un 4 stelle dove là non ce n'è un altro 4 stelle dove là non ce n'è un 5 stelle dove però qua ci sono 50 monete quindi non so quale dei due sia meglio un altro 5 stelle ma qui ci sono ancora 50 monete per adesso è in vantaggio l'extra sul premium devo dire la verità ok il premium ah ok perfetto il premium recupera alla lunga ci sta il premium recupera alla lunga per sbloccare il premium quanto serve? ah 250 monete per l'extra e 500 per il premium beh neanche tantissime oggettivamente non so se prendendo il premium si sbloccano tutte questo posso già farlo intanto chi se ne frega 50% di sconto sul primo acquisto il prezzo scontato è quello è quello indicato va bene tanto ne ho 800 ma però non le ho ancora riscattate le 309 perché 800 già le avevo quindi volendo le posso sbloccare anche tutte e due avere contratti 5 stelle 5 stelle a go go sarebbe stata una cosa carina sarebbe stata una cosa carina se avessero dato tutte e due le cose le cose insieme però via crepi l'avarizia io gli sblocco anche l'extra e chi se ne frega sbloccato tutto così per sicurezza almeno proprio dovrei avere contratti che mi piovono da ogni dove carina questa cosa molto 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 carina contando che le 800 queste 750 monete 300 in teoria dovrebbero avercele regalate loro tornano gli obiettivi abbiamo obiettivi della campagna nuovi quelli che durano praticamente tutto il mese segna gol nelle partite segna gol nelle partite completa gli obiettivi 50 monete non è male prima mi sembra che non c'erano e poi vabbè gli obiettivi della carriera credo che esatto siano quelli di sempre non sono andati a toccarli in alcun modo poi football board qua ci sono le partite a me mi interessava più vedere nel negozio nel negozio punti e football qui già sorrido perché già so hanno aggiunto due nuovi giocatori Jürgen Kohler e soprattutto Oliver Kahn Kohler com'è? 11 livelli di crescita fulcro del gioco parte da 84 e il tronco leggendario Kohler è un tronco leggendario tra l'altro solo tra virgolette 4 stelle invece Oliver Kahn Oliver Kahn è da prendere a prescindere solo 7 livelli di crescita portiere difensivo non ha 90 su tutti gli stili intesa però attenzione il massimo che ha è 70 sul passaggio lungo però Kahn si prende a prescindere cioè proprio ma neanche Kahn Kahn non si discute soprattutto se siete ex portieri come sottoscrivo come sottoscrivo come sottoscritto Kahn non si discute Kahn semplicemente si ama e quindi questo lo si prende al volo bella l'animazione leggendaria non me la ricordavo forse perché ho preso solo Skulls da questo da tutto questo pacchetto ci sarà da spendere un po' per farci gli allenamenti quello sì anche se 7 livelli non è che deve crescere chissà che cosa negli oggetti credo che siano le stesse cose rinnovo del contratto punti allenamento e quant'altro ok questo lo possiamo bellamente direi zompare e concentrarci più che altro sui pacchetti perché qua sì che ne hanno messa di roba argentina premium che si prende con 1500 monete non so se l'overall che viene visualizzato dai giocatori è già il massimo oppure lo mettono loro così sulla fiducia credo che lo mettano loro così sulla fiducia la vedo dura che un Messi premium in un pacchetto argentina pagamento per modo di dire perché poi in realtà le 1500 monete le potete ottenere anche giocando ma la vedo duro che non arrivi a 100 sinceramente oltre ai giocatori della nazionale argentina 15 allenamenti da 4000 punti e la maglia dell'argentina dell'anno 2014 2015 perché in questi pacchetti ci sono anche delle maglie speciali il Brasile e anche qua mi sembra strano che Neymar non arrivi non arrivi a 100 comunque oltre ai giocatori del Brasile tra i quali un Neymar legendario sempre 15 allenamenti da 4000 e la maglia del Brasile del 2002 2003 me la ricordo perché era quella che utilizzava all'epoca mi sembra cacà Giappone 2020 mizzica il Giappone oddio il Giappone le carte sono bellissime arriveranno ad un nuovo roll ridicolo probabilmente però le carte sono bellissime la maglia è quella del 2010 2011 forse la più anonima di tutte quelle che potevano scegliere il Giappone ha avuto delle maglie fantastiche nel corso della sua storia mettere quella del forse la più banale veramente la Francia e anche qua voglio ben vedere se non fanno una versione di Benzema a 100 sono molto curioso di capire come saranno l'overall di questi giocatori la Francia probabilmente tra tutte è quella a mio modo di vedere forse più conveniente perché ha veramente giocatori fantastici praticamente in ogni reparto qua non hanno una maglia esclusiva la Francia non ha una maglia esclusiva però costa 1500 punti esattamente come 1500 monete pardon esattamente come tutti gli altri gli altri pacchetti vedo che sono rimasti invariati sono sostanzialmente sostanzialmente gli stessi quindi bandone di ciance possiamo anche tornare su football world e vedere intanto sezione contratti forse è la cosa che siamo benvenuti in contratto vabbè qua ti fanno un tutorial come se fosse pacchetti sono quelli che abbiamo appena visto ticket giocatori standard li utilizzeremo quindi direttamente in questa funzione specifica poi giocatori in standard da comprare con i punti gp normali liste giocatori speciali abbiamo due banner epic da 150 personaggi l'uno sono due urne praticamente due pot uno con i giocatori leggendari della spagna iniesta alonso e fernando torres spagna 2010 e uno con le leggende giapponese nakata nakata nakamura e sato quello dei giapponesi espira però ragazzi dice da lasciarsi veramente un patrimonio il world wild di novembre cioè i giocatori della della settimana i giocatori della squadra della settimana vedi tutti vediamo chi sono allora non è un gran pack devo dire la verità anzi è abbastanza blando beh ok ma tu nei beh zecco vabbè zecco però anche lui sarà mister troncheggiante o de garda che è la seconda volta in poche settimane che ci viene proposto moise ken aleandro garnaccio garnaccio sì giusto ho detto bene nuno mendes ottavio tonicross e kimmich vabbè i tre piatti forti dovrebbero essere odegarde cross e kimmich che come overall complessivo loro non possono essere allenati quindi dovrebbe arrivare tipo a 98 kimmich a 97 cross e odegarde kimmich ha una particolarità che qua viene messo come terzino lui in genere nella sua versione base è proposto come centrocampista o comunque o comunque mediano qua invece come terzino terzino offensivo e caspita è veramente bello ma bello forte passaggio a manetta quindi cross veramente come se se non ci fossero domani controllo palla possesso stretto ci sta poco dribbling ma poco male per un terzino statistiche difensive comunque nella media per quel ruolo statistiche fisiche buone l'unica cosa nella quale effettivamente un po' pecca per ricoprire quel ruolo come barde comanda è la velocità perché come velocità effettivamente 73 è pochino il pool su questi giocatori con il pool gratuito che otterremo dall'evento settimanale lo si va a fare stasera poi altri giocatori pullabili con le monete quelli della j league ma veramente quelli della j league questi invece sono da allenare j league awards quindi sostanzialmente i migliori giocatori della stagione appena conclusa della j league o della stagione scorsa non saprei dire poi abbiamo anche i giocatori dell'mls dell'american league si la la lega americana io qualcuno del passato di questi già li avevo e anche qua credo che però si tratti di giocatori da allenare no questi sono già allenati perché vedo che arrivano già a 92 come come overhaul non credo che siano giocatori allenabili esatto questi non sono giocatori allenabili quelli della lega giapponese invece sì perché il valore della carta è diverso rispetto al valore che ci viene che ci viene presentato all'interno all time greets che letto così uno si direbbe mizga all time chissà che giocatori forternini che ci mettono che ci mettono fuori e no in realtà sono abbastanza cioè perché verrebbe da dire perché andrew ayu chupo motting joan mutigno sergio bruschetta muller caseres fair quello non provo neanche a pronunciarlo sinceramente alder way ok quello il papu gomez il papu gomez sommer mannaggia lui e keylor navas vabbè questi sono con i contratti che possiamo utilizzare 5 stelle 3 stelle 4 stelle si portano a casa un pochettino a piacimento però oggettivamente qua dentro io credo che a parte thomas muller non ci sia nessuno che sia veramente meritevole di attenzione parte da 84 26 livelli di crescita senza palla seconda punta trequartista esterno destro d'attacco esterno destro di centrocampo si mi sembra veramente l'unico un pochettino decente tra questi poi ripeto li vedremo meglio nella live di stasera questo è solo un video per tagliare un po' di cose e non doverli ripetere anche in live giocatori del mese della liga turca anche questi acquistabili con i contratti 5 stelle 4 stelle 3 stelle tra i quali abbiamo qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come Dries Mantens e Fabio Borini Fabio Borini che comunque vedo che è rimasto con una maglia con una maglia rossonera questi dovrebbero invece già essere maxati esatto non hanno livelli di crescita questi così sono e così si tengono ultimi ma non per ultimi basta perché poi Turchia Indonesia Magnesia Thailandia c'erano già voi vedrete anche l'Italia io non la vedo semplicemente perché li ho già presi tutti anche i giocatori della Lega Messicana questi qua con i contratti mirati vedo che comunque durano tanto perché sia la Lega Turca che l'All Time Greets durano 27 giorni quindi ce li dovremo ossorbire per un mese bisogna stare attenti ai contratti mirati quando scadono perché io per esempio ne ho uno che scade a 5 stelle al 5 dicembre quindi comunque entro al 5 dicembre che a me piaccia qualcuno che non mi piaccia nessuno uno di questi giocatori Muller lo dovrò comunque prendere dovrò stare attento a questo punto anche i contratti a 5 stelle degli eventi che abbiamo visto prima ma aspettavo qualcosa di meglio da questo punto di vista come giocatori a 5 stelle devo dire la verità concludiamo infine con le partite allora autentica cioè le partite da giocare con le squadre originali abbiamo l'evento dedicato ai mondiali che qua si chiama International Cup l'International Experience si gioca contro l'intelligenza artificiale premi 380.000 GP 380.000 GP alla faccia del Kaiser e allora si utilizzano le nazionali non necessariamente solo le nazionali che disputano i mondiali vediamo che per esempio c'è l'Italia quindi volendo possiamo scegliere anche la nostra nazionale sfida 1 minimo 5 punti in 3 partite sfida 2 minimo una vittoria in una partita sfida 3 idem sfida 4 idem sfida 5 idem traduzione traduzione gruppo a gironi ottavi di finale quarti di finale semi di finale finale tutte con partita secca hanno non avendo come si dice la licenza dei mondiali sono riusciti in qualche modo comunque a riprodurre l'evento l'evento dei mondiali con un po' di fantasia 120.000 GP per passare il girone 160.000 per passare gli ottavi 240.000 per 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 i quarti 240.000 per le semifinali 380.000 per le finali sono un macello esagerato di GP questi servono per acquistare i giocatori nella loro nella loro versione standard io prenderò l'Italia comunque a prescindere tanto sono partite contro l'intelligenza artificiale quindi non è che devo stare anche a sbattermi più di tanto a scegliere il Brasile piuttosto che l'Argentina piuttosto che la Francia e tutto quanto allora campionato e football ok quello è quello rimane era già in corso durerà comunque fino al mese prossimo le partite partita di debutto senza scadenza contro intelligenza artificiale si vincono 100 monete solo 100 monete va bene comunque sono 100 monete sempre regalate considerando che qua basta fare un tot di punti sostanzialmente potete anche lasciare giocare l'intelligenza artificiale al posto vostro potete anche perderle tutte tanto prima o poi ci si arriva evento national teams anche questo contro l'intelligenza artificiale per vincere l'accordo al buio per pullare uno dei giocatori del team of the week questo è l'evento più bello che secondo me potevano inserire international cup però con il tetto massimo alla forza under 2100 si gioca contro altri utenti quindi questo è un evento pvp voi dovete crearvi una formazione che non superi i 2100 punti di overall tutte le pippe che ho ottenuto nel mio account senza mai volerle vendere adesso finalmente tornano utili almeno 18 giocatori convocati nella squadra nazionale selezionata in schema di gioco vuol dire che dobbiamo avere almeno 18 giocatori di queste nazionali creo credo cioè che appartengono almeno non dico proprio nelle squadre nazionali ma che abbiano questa nazionalità suppongo sfida 1 segna almeno un gol sfida 2 segna almeno 2 gol sfida 3 segna almeno 3 gol sempre in 3 partite se non siamo scemi ragazzi se non siamo scemi quando ci si becca online ci si fa segnare i gol per passare la sfida e poi si gioca normalmente non ha senso giocare alla morte in queste partite far perdere tempo agli utenti ci si regala un po' di gol vicendevolmente giusto quelli per passare la sfida e poi si gioca normale e vinca il migliore 10.000 gp 30.000 gp e poi le 50 monete e football finali naturalmente qua lo si fa più che altro per le monete e football e poi l'international cup vera e propria questi tre eventi national team international cup international cup under 2100 durano una settimana quindi bisogna giocarli in fretta parcheggiate un attimino il campionato e football e giocate questi perché poi settimana prossima probabilmente in qualche modo verranno verranno rinnovati l'international cup invece vera e propria anche qua mi dice che devo rispettare determinati criteri e dei determinati criteri credo che sia comunque sempre quello di avere almeno 18 giocatori almeno 18 giocatori mi scappa da ridere perché le formazioni tra panchinari e titolare sono 18 giocatori quindi dovete avere una formazione completa tra titolari e panchinari appartenenti a queste squadre a queste squadre qui loro molto furbamente ah no vedete i giocatori della Thailandia per esempio ci sono Thailandia indonesia e malese ci sono adesso sappiamo che cosa servivano tutti i pull che ci hanno regalato per pullare i giocatori thailandesi indonesiani e malesiani ve li piazzate in panchina tenete l'overall bello basso e andate sul sereno a questo servivano porco cane va come sono stati come sono stati i lungimiranti anche qua consegnati meno uno consegnati meno due consegnati meno tre vale la stessa cosa ragazzi non facciamo gli infami prima ci si regala i gol per passare la sfida poi si gioca normalmente e almeno prima riusciamo a levarci dagli zebedei questi eventi che comunque ripeto non sono malvagi di per sé ma prima si torna a giocare nel nel campionato visto che comunque abbiamo già perso tre giorni direi che c'è da recuperare un po' di tempo perso io ancora non ho riscattato i regali me ne sono accorto adesso riscattiamo i regali anteprima player ah giusto una cosa importante i giocatori della squadra della settimana saranno dedicati alle squadre di club solo fino a questa settimana da settimana prossima fino a quasi la fine di dicembre quindi fino al 22 dicembre praticamente fino al termine dei mondiali i giocatori della squadra settimana verranno scelti in base all'andamento dei mondiali i giocatori italiani purtroppo sogniamoci di mannaggia la miseria però verranno scelti in base in base a quello da tenere particolarmente d'occhio a questo punto quella del del 15 del 22 dicembre perché ragazzi sono saranno i migliori in campo probabilmente tra le semifinali e la finale e si presume quindi che siano giocatori di un certo livello nel caso tenete le monete per quelli ve lo suggerisco poi problemi noti va bene niente dettaglio del nuovo file di aggiornamento tutta questa ambaradam me lo leggerò dopo segna tutto come letto un po' se ne arrivo ecco le quali 300 monete delle scuse dell'amministratore poi il regalo dell'amministratore accordo al buio un altro accordo al buio ricompensa pass partita ricompensa pass partita questi sono quelli che ho riscattato prima grazie al pifero avrei voluto ben vedere che non me li davano e poi altre missioni che devo aver che devo aver riscattato perfetto eccolo qua bail eccolo qua tadic ok ragazzuoli ripeto il resto lo vediamo tutto stasera in live i pool li faccio stasera in live i pacchetti aspetterò di capire come saranno i giocatori soprattutto di argentina e brasile una volta raggiunto un determinato overhaul perché a me la davanti per come ho intenzione di cambiare il mio modulo messi nei mar o almeno anche solo uno dei due mi farebbero abbastanza comodo però sono comunque 1500 monete per pacco quindi prima di andarci di andarci a investire vorrei capire come a che livello possono arrivare quei giocatori non è roba di stasera roba di stasera saranno i pool da tutte le altre parti possibili ed immaginabili tra ticket accordi al buio contratti 5 stelle 4 stelle 3 stelle eccetera eccetera orario approssimativo della live su twitch in questo caso ripeto 20 e 30 poi magari potrai iniziare un pelino prima un pelino dopo poi vedremo comunque tenete come orario più o meno alle 8 e mezza per oggi era tutto pace belli alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.